Siamo in compagnia di Chiara, una delle venti finaliste. Conosciamola. Ciao Chiara, da dove vieni? Da Udine. Che cosa studi? Studio al liceo economico-sociale perché mi piace molto diritto e da grande vorrei fare l'avvocato. Qual è il tuo hobby preferito? Nel tempo libero vado in palestra, faccio foto e suono al pianoporte. Che tipo di ragazza sei? Come ti descriveresti? Mi definisco una ragazza semplice, testarda e determinata. Grazie, vuoi farci un saluto? Ciao a tutti. Grazie.